Ragazzi benvenuti in questa nuovissima puntata della nostra serie, in realtà serie di video di Die.io Mi raccomando aggiungere i 500 like per questo nuovo video e mi raccomando qui sotto nei commenti scrivetemi delle build che potrei usare nelle prossime puntate Perché ci sono tante build e io sto usando più o meno sempre la stessa per un po' vedere quanto è il massimo che riesco ad aggiungere Come sempre però guardatevi l'episodio Ciao ragazzi benvenuti in questa nuovissima puntata della nostra serie di Die.io Ok in realtà non è una serie più in una serie di video che sto facendo per mostrarvi un po' di cosette Allora nella nostra puntata siamo arrivati ben a 32.000 all'età, siamo arrivati tipo a 25.000 Quindi adesso vorrei fare del mio meglio per arrivare a un puntaggio un po' più alto Ci staremo più tempo ovviamente, abbiamo solo meno parte quindi sarà un video un po' più cortito del solito Anche perché ho visto che più o meno vi piace il primo video quindi spero effettivamente che vi piaccia anche quest'ultimo E devo anche capire effettivamente come potenziare o cosa potenziare Allora nella nostra puntata abbiamo potenziato varie cose che non erano granché utili Per esempio abbiamo utilizzato il body damage che sicuramente non l'ho mai usato Quindi cosa abbastanza inutile E andrò sempre per qualcosa di un po' più simile a quello che avevo fatto ad questa puntata Perché voglio vedere fin dove posso arrivare con quello Però non posso farci niente, oh mio dio, mio dio, mio dio, mio dio Quello mi fa male, quello mi fa male Ok allora ho preso un po' di botte Devo andare con il telegenne ragazzi Con Reload E con un po' di balle e spirito Ok perfetto Devo migliorare anche la mia max health Perché sarebbe anche utile per ritornare Anche perché ho preso mazzate Da quel coso raga Porca vacca che mazzate ho preso da quel coso Oh porca merda no 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 pezzo di merda Niente niente ci riproviamo tranquilli Tanto mi sono appena schivato una serie di palline In faccia sinceramente E ora al game world 15 dovrei selezionare Il mio prossimo cannone andrò per Vediamo un po' lo sniper Che dovrebbe in teoria aumentare Oh porca merda aumentare sta cosa Ragazzi oh porca merda porca merda Oh porca merda Oh dio santo Scappa Scappa Ok Dovevo in qualche modo scappare Da sto tipo che mi vuole shottare Malamente Ma ovviamente aumenta anche La possibilità di vedere un po' più da lontano E altre questo dovrebbe Poterci anche aiutare un pochetto Con il recupero Del HP Andremo con altre leggende altissimo Sì devo mettere il mio reload Così sono più veloce a sparare Guardate Madonna mia Quanto mi viene sparato in faccia Sei un pezzo di merda sei Madonna Madonna Oh mio dio guardate quanti palle Non so come Oddio Oddio raga Io non so come fare Non so come fare Non so come fare Merda smettetela di spararmi sti cosi Mi sono stato due volte da morte certa ragazzi Oh merda No 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 Ok l'ho preso quello però Sti cavoli Ma smettete di seguirmi No Diamine E sono morto di nuovo Ok Abbiamo capito Vuoi fare questa cosa E allora va bene per te Andiamo soltanto con una cosa Scialla tranquilla ovviamente Non troppo complicata Solo da farming Va bene va bene va bene Va bene va bene Vuoi fare farming Facciamo farming Scialla Poi c'è la gente La 13k Che ti insegue Pezzo di merda Ma cosa vuoi Vai via Vai via Lasciami perdere Ok raga devo scappare Aia 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 Preso tutti i danni Possi immaginabili da quel coso Raga Porca merda Porca merda Vale damage Mi serve più vita Mi serve E più altre gente Perché la gente Mi fa davvero il culo Niente questa volta Stanno abbastanza male Perché la gente Oh ma dai Perché mi insegui Perché mi insegui No dai Dai quel colpo di merda Più grande Il pezzo di merda Doge Fai schifo E vabbè Ciaoone però Ciaoone Guarda davanti Mi ha appena attraversato addosso E mi ha ucciso E no E no Spirit l'altra volta Mi ha salvato parecchio Da morte certa E vabbè Però la smetti di spammare Roba a random Madonna No no Eh ma no Che cosa vuoi Che cosa sei Più che altro Sì che cosa sei Ma perché mi trovo In mezzo alla gente Che mi spara Tipo una guerriglia Che mi uccide Ce la farò A fare un po' di punti Eh Ok ora Si che andiamo Che andiamo bene ragazzi Facciamo un po' di bullet speed Un po' di movement speed E poi il resto Bullet damage Così almeno possiamo fare Un po' di danni Tranquillamente Ok Guarda quello è morto Guarda quello è morto Guarda quello è morto Ok lasciamolo per Oh merda Pezzo di merda Io ti lascio andare E tu mi sciotti pure Pezzo di merda Oh sta A 140k Chissà se ce la farò Ad arrivare a 140k Però noi ci proviamo Ragazzi Poi Poi chissà Oh porca merda Oh porca merda Oh porca merda Oh porca merda Porca merda Porca merda No 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 Pezzo di merda Pezzo di merda Ragà Ragà Che Cristo era quel coso Madonna E un po' di danni Li facciamo perché Bari da me ci capiamo Non è per niente male Però anche loro Mi fanno parecchio male Perché ovviamente Bisogna tipo difendersi In qualche modo Oh ragazzi 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 Forse l'ho shot L'ho shot Anche Forse l'ho shot No è scappato E vabbè Però c'è uno Uno da 16k Che mi vuole shottare Come faccio Guarda a shottarlo Oh merda 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 Oh l'hanno shottato No ora vuole me Ora vuole me Ora vuole me Però lui è piccolino Quindi in realtà I colpi che faccio io Non li dovrebbe distruggere O almeno non dovrebbe fare Troppi danni Ok pezzo di merda Pezzo di merda Guarda guarda ragazzi Oh oh Dai Beh così scappi adesso Scappi pezzo di merda Ah vai shottato perfetto Eh oh 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 3000 3000 3000 Oh merda 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 Oh grande Shottato ragazzi Buonissimo Oh raga Raga guardate gamer Guardate gamer come piglia botte Oh raga raga Lo shottiamo Lo shottiamo Lo shottiamo Lo shottiamo Lo shottiamo quasi Lo shottiamo Oh merda Merda No 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 As Sei un culo as No Diame raga Avevo quasi sciottato A gamer Maledizione Sono quasi tornato Dove ero prima Ragazzi sono a 26 punti 26 livelli In realtà Con 3900 punti Però 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 quel pezzo di merda Me la pagherà Appena vedrò ass Di nuovo Ragazzi Lo massacrerò Di botte Perché effettivamente Se lo merita In quel tempo Comunque i livelli Stanno salendo Bastante velocemente Ho ripreso più o meno Ragazzi Pupi Sanno pupi Sanno pupi Ce l'ho quasi fatta Ma si fatta Merda Dovrebbe morire Dovrebbe morire Dovrebbe morire Quello No dovrebbe morire Dovrebbe morire Dovrebbe morire Porca merda No niente Sono infilato In un buco enorme Di gente Ok Meno male che qui Le palle funzionano In un certo modo Tipo Vedete qui la gravità È un po' di dotta Per quello Ha un balle speed Abbastanza bassino Quindi io Se non sparo Me ne vado via E se fotte Sega proprio di lui Perfetto Nel tempo Sparo così Così faccio anche i livelli Ragazzi Insiste È fissato Ma vuoi morire Opla Sperate che adesso Proviamo un attimo A fare più danni possibili Oh merda Merda Però piglio un botto Di danni Se riesco a gestirmela meglio O me lo riesco a shottare Oh merda Merda Però così muoio Così muoio Così muoio Così muoio Così muoio Ah Merda 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 Devo scappare Devo scappare Devo preparare un po' di HP Ragazzi Oh cristo santo Eh merda Merda No 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 Ok ok Devo difendermi Devo difendermi Devo difendermi Oh Porca merda Ragazzi Ballet Penetration Pezzo di merda Come vedi Ok così passo in mezzo Guarda qua si fa uno scudo Si fa di cose Teorei anche Ah Ah Dio santo Dio santo Dio santo Quasi shottato Oddio si shottato quella 33k ragazzi GG Tanta roba Tanta roba davvero Oh merda Merda Ah Morto Va morto Perfetto Mi dispiace Uh ragazzi Una bellissima zona di farming E va bene Ora ci andiamo a farmare La vita ragazzi Perfetto Guardate guardate qua Oh mio dio Quanta roba Ah no però c'è anche gamer Gamer di merda Perché mi continui a seguire La smetti di seguirmi Gamer Oh ragazzi Quello lì Ho ucciso uno Gigantesco Ragà No raga Io sono riuscito a shottare Uno gigantesco E ho fatto tutti i 45 livelli No no Vabbè Ciaoone Ciaoone E facciamo Ballet Penetration Ragazzi Perfetto Anche perché la split ce l'abbiamo Penetration ce l'abbiamo Ora è tempo di farmare Tranquillamente Pezzo di merda Oh Ti ho shottato Pezzo di merda Lo salta Vieni contro di me Ragazzi Ballet damage Ballet penetration Mi aiuta tantissimo In questo caso Guarda come si spara bene Guarda guarda Oh vabbè Ciaoone Guarda 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 riesco a beccarlo Riesco a beccarlo quello Sì riesco a beccarlo Riesco a beccarlo Oh sì No quasi Vabbè sti cavoli dai sti cavoli Andiamo avanti A farmare Dobbiamo arrivare Secondi almeno Dai secondi Secondi direi che potremmo anche Fermarci qui Per questa puntata Vorrei avere almeno 50k Ok ragazzi Sono tornato in classifica Pezzi di merda Meno prima Tanto la classifica No 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 Mo vedi E nel frattempo Stiamo facendo un po' di danni Oh 1 da 42k ragazzi Quello si shotta Quello si shotta Quello si shotta ragazzi Non si shotta Oh porca merda Quanto mi leva Quanto mi leva Oh cristo santo Raga Cristo Santo Il danno che mi ha fatto E' uno sniper Raga E' uno sniper Cattivissimo Cattivissimo Proprio a livelli assurdi Si ritornano alla zona di farming Guardate qua Quanta bella zona di farming Perfetto Ci mettiamo in mezzo E scioltiamo tutto quanto Perché tanto Le nostre palle Shottano un po' tutto Senza troppi problemi Guardate Guardate Oh Oh Ucciso quello da 7k Grande Ulisse Grande 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 Ok Se riesco a beccare quel tipo Raga Lo sciottiamo Oh guarda 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 Ok Pilla botte Pilla botte Pilla botte Pezzo di merda Pezzo di merda Pezzo di merda Oh oh Raga è quasi morto Quasi morto Dai che prendo le palline Dai che prendo le palline Dai che prendo le palline Uccido Oh merda Raga mi shotta Mi shotta Mi shotta Ho poche kp Ho poche kp Diamine però 34k 55k Quasi Ragazzi 55k Sono primo Sono primo ragazzi miei Hanno ucciso quella 100k Direi che così Si potrebbe anche andare Video della giornata Devo trovarmi la zona farming ragazzi Oh merda Oh ho shottato Finalmente Pezzo di merda Oh vieni di nuovo contro di me Vieni contro di me Ragazzi c'è un tipo Bello altino Ma devo scappare Perché quello E' complicato da battere E non ho modo di farli Più tanto possibile Quindi per ora Mi racconterò di fare In questo modo Di ultimi 1000k Ragazzi Dicente va bene così Oh guarda Ho shotto Guarda Ho shotto Guarda Ho shotto Ho shotto Ho shotto No No merda Verda 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 Devo shottarlo Diamine Diamine No ragazzi sta scappando Porca vacca Era bello altino Quello Era bello altino Madonna Ragazzi 70k Direi che per la puntata di oggi Potrebbe essere anche tutto Fatevi avervi chiuso sotto nei commenti Se volete delle build A consigliarmi Perché so che ci sono altre build Carine e belle Nel caso ragazzi Per la nostra puntata giornaliera Direi che è tutto Ci vediamo presto Al prossimo video Ciao ciao E alla prossima puntata